Se siete troppo giovani per ricordarvi il Muppets Show, ora potete rifarvi visitando il Museo Nazionale di Storia Americana di Washington. È lì che sono approdati una ventina di pupazzi creati da Jim Henson negli anni 50. Nella donazione fatta dalla figlia Cerlich c'è anche Miss Pig, che si ricongiunge con l'amato Kermit Larana, già presente nel museo.